Il camper dei vaccini pediatrici ha fatto sosta alla scuola primaria Marcoccia, alle Fontanelle. 20 bambini prenotati, in larga maggioranza stranieri. L'adesione è stata tipidina, pensiamo che sia dovuto anche al fatto che abbiamo diverse classi, soprattutto di scuola primaria, in quarantena o anche in sorveglianza. Quindi in queste condizioni penso che le famiglie giustamente non se la siano sentita. Però, insomma, non ci possiamo lamentare. Noi speriamo di aver reso soprattutto alle famiglie un servizio, perché questo era l'intento della scuola. La prevalenza da parte di famiglie straniere potrebbe essere proprio letta nell'ottica del servizio che la scuola ha reso. Le prenotazioni sono state fatte tramite la direzione scolastica, senza quindi passare per il portale che, per chi non padroneggia l'italiano, risulta complicato da utilizzare. Per i genitori presenti, infatti, sono stati figli a fare da traduttori nella fase di compilazione dei documenti e dei consensi. Il primo bimba ad essere vaccinato è di origine cinese ed è stato accompagnato dal padre. Il personale dell'ASL, oltre ad un attestato di coraggio, ha anche consegnato la data per il richiamo della vaccinazione. In coda anche una bimba pakistana, un undicenne del Marocco e due fratellini italiani. Sì, bene, non mi hanno fatto male, quando invece credevo di sì. E ora come ti senti? Bene. Fatta la vaccinazione, come ti senti? Bene. Hai avuto paura? No. Il prossimo appuntamento con la campagna vaccinale itenerante per il 15 febbraio appoggio a Caiano, alle scuole Filippo Mazzei, e il 9 marzo a Vaiano, all'Istituto Comprensivo Bartolini. Grazie. Grazie.